Riaperta la Contessa dopo otto mesi, Marche e Umbria di nuovo unite. Ventenne pesarese precipita dal quarto piano e in condizioni disperate. Addio rifiuti porta a porta, cassonetti intelligenti in tutto il centro pesarese. Ricostruita la strada franata di Villa Betti. Sport gioisce la VL, la VIS spreca un'occasione d'oro. Buongiorno a tutti. Apriamo questa edizione con le immagini che arrivano dal confine tra Marche e Umbria. Regioni di nuovo unite sul loro versante settentrionale grazie alla riapertura della strada della Contessa. Venuta proprio oggi dopo otto mesi di lavori sulla galleria e sulla ricostruzione del viadotto. Vediamo. Oggi inauguriamo dopo la ristrutturazione un'opera strategica di collegamento non solo tra Marche e Umbria ma per il centro Italia. Poniamo con forza, lo abbiamo fatto sin dal nostro insediamento, la giunta regionale delle Marche, ma in sinergia con la giunta regionale dell'Umbria e oggi anche con il Lazio, con i quali parliamo lo stesso linguaggio e utilizziamo lo stesso gergo, il grande tema della terza Italia. L'Italia centrale che è una catena di collegamento, una cinga di trasmissione non solo tra l'Italia del nord e l'Italia del sud, ma soprattutto tra i due mari, il mare Adriatico e il mar Tirreno che rappresenta un asse di collegamento strategico tra l'est Europa e la parte occidentale del nostro continente con la penisola iberica. Quindi le Marche, l'Umbria e il Lazio rappresentano uno strumento per collegare tutta l'Unione Europea con un corridoio diagonale che parta dal mar Tirreno ma addirittura dai Balcani per arrivare al corridoio atlantico che attraversa la Spagna e il Portogallo. È fondamentale che l'Italia di mezzo, quest'Italia al centro, Umbria, Marche, Toscana, Lazio e Abruzzo facciano squadra perché altrimenti i finanziamenti vanno tutti, al sud perché è il sud, al nord perché li merita e noi stiamo a guardare. A me non piace questa logica ma con le Marche stiamo lavorando alla grande per ottenere questi risultati. Era un'opera necessaria e indispensabile dal punto di vista della sicurezza che i lavori sono stati realizzati nei tempi stabiliti anzi anticipando anche qualche cosa e quindi va fatto un plauso non solo ad ANAS ma anche alle imprese che hanno lavorato per l'analizzazione di quest'opera. È nato tutto da una collaborazione tra la Confcommercio di Gubbio e la Confcommercio di Peso Rubino il fatto di aver saputo avvicinare l'ANAS Umbria con l'ANAS Marche, la Regione Umbria con la Regione Marche, la dirigenza nazionale dell'ANAS per consentire l'esecuzione dei lavori in tempi rapidissimi. Inizialmente non erano questi tempi e quindi c'era forte preoccupazione da parte delle nostre imprese per i danni economici che queste avrebbero dovuto subire. Questa è una giornata di soddisfazione piena ma si è creata anche un'opportunità che abbiamo intenzione di cavalcare e insieme ai colleghi di Confcommercio Marche Nord abbiamo intenzione di aiutare le nostre imprese con dei progetti di valorizzazione del territorio coinvolgendoli in quella che è una promozione del territorio in senso lato, a 360 gradi Umbra Marche. Ed ora passiamo alla cronaca perché un 26enne pesarese è tuttora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Torrette di Ancona dopo che sabato sera è precipitato dalla finestra della sua abitazione in via Barignani in pieno centro storico a Pesaro. L'ambulanza corsa sul posto ha riscontrato una pluralità di lesioni dopo un volo di 13 metri che ha portato ad un ricovero in rianimazione in condizioni disperate. Indaga la polizia per chiarire i motivi di quello che sembrerebbe un gesto volontario. Ed ora cambiamo argomento. Dal 5 febbraio non ci sarà più la raccolta differenziata a porta a porta nel centro storico di Pesaro. Dopo un anno di sperimentazione con sei cassonetti intelligenti, da febbraio le eco-isole diventeranno 23 cambiando il metodo di conferimento dei rifiuti per l'intera ZTL. Dopo la sperimentazione partita a ottobre 2022 con sei cassonetti intelligenti nel centro storico di Pesaro, nel 2024 il modello con le isole ecologiche informatizzate si allargerà a tutta la ZTL. Dal 5 febbraio il centro di Pesaro abbandonerà dunque il sistema di raccolta differenziata porta a porta aggiungendo altre 17 eco-isole che faranno salire il conto a 23 punti di conferimento dei rifiuti. Un investimento di marche multiservizi che aumenterà così da 1.000 a 4.000 le utenze pesaresi coinvolte. Direi che è un passaggio culturale e innovativo, importante, non solo perché così i cassonetti li chiamiamo intelligenti quindi sono già dotati di una parte di intelligenza artificiale ma diciamo che soprattutto è una modalità di raccolta che consente ai cittadini di essere più liberi nei tempi e nei modi e soprattutto anche nei giorni di conferire i loro rifiuti. Effettivamente prima il porta a porta costringeva i cittadini a conferire determinate ore, determinati giorni quindi diciamo che impegnava la loro qualità della vita. Oggi questo viene del tutto superato e quindi credo sia un passaggio importante anche per la cittadinanza. È un investimento importante perché tra la fase sperimentale e quella attuale Marche Multiservizi investe circa mezzo milione di euro. Per accedere alle eco-isole gli utenti dovranno munirsi della cosiddetta carta smeraldo che sarà ritirabile dal 18 al 23 gennaio nella sede del quartiere 1 centro storico di via Gavardini 10. Ci sarà un lasso di tempo di coesistenza dei due metodi di raccolta rifiuti perché le isole ecologiche entreranno in funzione il 22 gennaio mentre l'ultimo giorno di raccolta porta a porta sarà il 3 di febbraio. Manderemo delle comunicazioni, ci saranno le assemblee come già ci sono state per cercare di comunicare al meglio cosa comporta questa nuova modalità che nella sperimentazione ha dato risultati molto importanti sia dal punto di vista del decoro urbano della città ma anche dal punto di vista della raccolta differenziata. Quindi chiediamo a tutti i cittadini di continuare con questa sensibilità con questa voglia comunque di conferire in maniera corretta perché ci consenta come azienda e come città di raggiungere gli obiettivi di economia circolare che l'Europa ci impone, cioè quello del recupero della materia. Un invito che c'era stato fatto un po' anche da tutto il Consiglio Comunale di modificare il tipo di raccolta in centro. Sapevamo che poteva essere anche complicato in qualche modo invece abbiamo avuto una risposta molto positiva da parte dei cittadini devo dire che tranne qualche piccola situazione di criticità non hanno mai lasciato i rifiuti fuori dai cassoletti quindi mi devo complimentare anche con i pesaresi che hanno accolto in maniera favorevole, civile ed educata questo tipo di raccolta. Le difficoltà che abbiamo avuto ovviamente sono sempre quelle relative alla sosta in centro storico quindi quando andiamo a posizionare dei cassonetti perdiamo alcuni posti auto e anche per quello ci siamo attrazzati nella realizzazione di posti gialli al di fuori della ZTL riservata ai residenti. Non solo la strada della Contessa vedere la bandiera a scacchi di lavori conclusi è stata oggi anche via Molini strada della frazione pesarese di Villa Betti che era letteralmente collassata sotto i colpi di una frana e del successivo alluvione. Un cratere al posto della strada Lo scorso 20 settembre si presentava così via Molini arteria stradale strategica di Villa Betti nel municipio di Monte Ciccardo A inizio 2023 uno smottamento aveva infatti fatto franare l'intera sede stradale nell'area agricola sottostante creando una voragine allargatasi di mese in mese e particolarmente aggravatasi in seguito all'alluvione di maggio Frana che ha tagliato in due la frazione con conseguenti disagi a residenti e viabilità Riperite le risorse comunali proprio nella seconda metà di settembre sono partiti lavori di ricostruzione della strada realizzata dalla ditta Palazzi e terminata in meno di due mesi È stato purtroppo un fatto non previsto che ha spaccato Villa Betti proprio a metà rendendo obbligata un'uscita più complicata da Via Betti Questa è un'opera che restituisce sicuramente un traffico più fruibile a tutti In pochi mesi siamo riusciti a ricostruire l'impalcato stradale palli di fondazione opere di zootecniche di sostegno e riapertura della strada Da subito ci siamo impegnati come amministrazione comunale prima a trovare le risorse insieme all'assessore al bilancio 185 mila euro stanziati per ricostruire una parte di strada come giustamente dicevi lavori che sono partiti a settembre dopo un'indagine e un'analisi anche del terreno importante perché abbiamo visto come rispetto ai primi movimenti franosi questa parte di strada ha continuato a cedere anche successivamente e di conseguenza siamo intervenuti nel modo tecnicamente più corretto con dei pali, con la ricostruzione di fatto di una parte di strada per 20-25 metri di lunghezza un intervento che ci eravamo impegnati a concludere entro l'anno perché sappiamo anche quanto poi nel mese di gennaio e febbraio il rischio delle temperature particolarmente fredde potesse causare anche che la strada ghiacciasse quindi anche dei pericoli per la viabilità un impegno quindi che abbiamo preso a settembre siamo partiti con lavori grazie a un buon lavoro di squadra grazie anche alla ditta Palazzi che ha lavorato in modo da avere greggio siamo arrivati a concluderla prima di quello che era la fine prevista al cronoprogramma proprio via Molini fu visitata di persona dalla ricognizione dei tecnici della protezione civile nazionale per la valutazione dei ristori ai danni dell'evento alluvionale di maggio sembra che ci sia stato un riconoscimento rispetto alle risorse stanziate per i danni causati dall'alluvione e quindi a questo punto vorrebbe dire che avremo delle risorse quando arriveranno da poter recuperare l'intervento realizzato domani alle ore 17 in prefettura otto cittadini pesaresi di nascita o d'adozione saranno decorati dell'onoreficenza dell'ordine al merito della Repubblica Italiana il prefetto Emanuela Saveria Greco consegnerà nell'occasione onoreficenze di cavaliere ufficiale e comandante all'ex assessore comunale Giuliana Ceccarelli al comandante provinciale dei carabinieri Gianluigi Cirtoli al sottoufficiale dell'arma Fabio Costantini ai sottoufficiali della Guardia di Finanza Leonardo Nardella e Sergio Di Palma al dirigente della Polizia Stradale di Pesaro Antonio Colantuono al direttore della Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti e alla dottoressa dell'ospedale San Salvatore Lucia Marinucci Nei giorni scorsi il piazzale dello Stadio Benelli di Pesaro è stato intitolato alla memoria dell'ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat attraverso una cerimonia istituzionale che vi mostriamo in questo prossimo servizio Nel quartiere pesarese di Pantano il piazzale di via Simoncelli adiacente allo Stadio Benelli diventa intitolato alla memoria di Giuseppe Saragat Venerdì pomeriggio è stata scoperta una targa dedicata a colui che fu presidente della Repubblica dal 1964 al 1971 Saragat che va ad aggiungersi agli altri storici esponenti della sinistra a cui sono intitolate diverse vie nel quartiere all'intitolazione oltre ad una nutrita delegazione comunale anche l'onorevole Valdospini ex deputato e attuale presidente istituzioni culturali italiane che dopo la scopertura della targa ha presentato nella vicina scuola Brancati il suo libro sul colle più alto dedicato alla storia dei presidenti della Repubblica italiani Saragat personifica la democrazia del socialismo per tutta la sua vita è stato attaccato agli ideali di democrazia e di socialismo e le ha testimoniati in ogni situazione il secondo aspetto è sulla figura del presidente della Repubblica oggi si parla molto di riforme istituzionali e io devo dire sono molto dubbioso sull'idea di affiancare al presidente della Repubblica che ha saputo rappresentare in genere e Saragat lo ha fatto da per suo l'unità nazionale affiancare un primo ministro eletto che di fatto poi sminirebbe la sua figura credo invece che in un paese così diviso così anche tormentato alle volte come l'Italia il presidente della Repubblica possa avere quella funzione unificante che credo di gran giovamento alla società all'economia, al paese tutto ecco Saragat è stato uno di questi presidenti quindi ricordare oggi lui significa anche ricordare quella presidenza della Repubblica che la Costituzione ha voluto per il nostro paese è un difensore della democrazia di quel periodo un grande presidente della Repubblica che anche Pesaro vuole onorare con la dedica di una targa in un quartiere importante perché lo vede insieme a tante vie dedicate a tanti importanti socialisti Saragat non aveva una via dedicata e con il consiglio di quartiere abbiamo deciso di farlo in un luogo trafficato in un luogo partecipato, in un luogo che vede la partecipazione dei cittadini quotidianamente Comune che ha accolto una proposta di intitolazione che fu avanzata da Giancarlo Clini Pochi metri più avanti dal punto in cui noi ora ci troviamo c'è via Filippo Turati, c'è via Claudio Treves e poco più in là c'è Andrea Costa, Villa Andrea Costa Andrea Costa è stato il primo parlamentare socialista del Parlamento italiano e ancora più avanti c'è via Filippini Filippini era un senatore della Repubblica, della Costituente sempre appartenente quindi mi fa piacere, inutile nascondervi mi fa piacere che in questa zona ci sia un ricordo, un momento di memoria per Giuseppe Saragat A Momaroccio si è completato il primo set di costruzione di marciapiedi di collegamento pedonale fra il centro storico e la frazione di Villa Grande in questa immagine si vede la conclusione del primo stralcio di lavori per un importo di 305 mila euro a cui ne seguirà un altro per un analogo stanziamento ad inizio 2024 si tratta di un intervento che ha ricevuto 305 mila euro di fondi ministeriali e 260 mila di fondi regionali cifre che il Comune ha integrato con 60 mila euro di risorse proprie dopo anni di pausa legata al Covid torna a Pesaro la cena di Natale per i senza fissa dimora organizzata dall'associazione Città della Gioia ai senza tetto della città sarà offerto un momento conviviale dalle 15 del 25 dicembre nella palestra della parrocchia dei Cappuccini momento al quale la Città della Gioia invita tutti i cittadini che intendono mettersi in gioco con un'esperienza di volontariato nuova e solidale nel giorno più sacro della cristianità è arrivata anche a Pesaro la luce della pace di Betlemme si tratta di una lampada ad olio che arde incessantemente nella chiesa della Natività luogo in cui nacque Gesù Cristo ogni anno nel mese di dicembre da quella fiamma ne vengono accese altre che vengono poi diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli quest'anno la luce di Betlemme ha fatto tappa a Pesaro con la consegna alla stazione ferroviaria di Pesaro alla delegazione di scout di Villa San Martino che hanno ricevuto la teca contenente candele per poi portarle al Parco Miralfiore dove si è tenuto un momento di preghiera in nome della pace del mondo ringraziamo i parrocchiani di Villa San Martino che ci hanno inviato queste belle immagini continuiamo con le segnalazioni in questo caso di altro genere segnalazioni che ci arrivano da un residente del quartiere della Celletta di Pesaro che ci ha inviato questo video che documenta un sospetto avvistamento di un lupo in via del Novecento dalle immagini non è chiaro se si tratti effettivamente di un lupo o di un canide ibrido ma testimonia un altro episodio di sconfinamento di fauna selvatica in aree residenziali come sempre vi ricordiamo il numero Whatsapp dedicato alle nostre segnalazioni 370-366-7210 siamo arrivati alle notizie riguardanti lo sport e allora partiamo con l'importante vittoria della VL a Pistoia confortante successo della VL che spugna il complicato campo di Pistoia per 73 a 74 costruendo la sua quinta vittoria stagionale su un ottimo primo tempo sulla tenuta in difesa durante la rimonta di Toscani e sulla lucidità nei momenti punto a punto del finale dopo un primo tempo chiuso avanti di nove la VL gioca da collettivo conquistando una vittoria grazie a quattro giocatori in doppia cifra su tutti i 19 punti di Visconti autore di una prova superlativa come ottimo risulta il debutto di Cincarini che sforna una decina di assist in Serie B gioisce anche l'Ital Service Loreto Basket che nell'ultimo appuntamento casalingo del 2023 vince 67 a 61 contro l'Amatori Pescara nel calcio occasione sprecata per la Vispesero che al Benelli fa 2 a 2 nello scontro salvezza col Sestri Levante non basta la sorprendente doppietta di Carson l'islandese porta avanti la Vis al trentesimo su assist di Di Paola ma il Sestri pareggia con Sandri dieci minuti dopo sembra fatta quando Carson cogede il Vis al novantesimo ma messa palla al centro la Vis si fa incredibilmente riprendere dagli avversari che pareggiano subito con parlanti approfittando di una colossale dormita difensiva continua invece il buon momento della Megavox Vallefoglia nella massima serie di pallavolo femminile a Pesero le Tigri battono in 3-7 Casal Maggiore con i parziali di 25-15, 25-22, 25-21 vittoria che dà corpo a una risalita in classifica che rende ancora possibile il raggiungimento dei quarti di finale di Coppa Italia nell'ultimo match dell'anno invece la Fiorini-Pesero-Rugby combatte al Toti-Patrignani fino all'ultimo ma cede 18-22 ai Veneti del Rugby Paese partita punto a punto in cui ai Kiwi non bastano le mete di Fusco e Antonelli accontentandosi di muovere la classifica di un solo punto Non è scesa in campo questo weekend l'Ital Service di Pesaro di calcio a 5 società che ne ha approfittato per ritrovarsi a tavola con la società gemella dell'Oreto Basket per un momento di auguri natalizi e di riflessioni sul percorso di questa polisportiva pesarese Prima al ristorante in piazzetta poi al vicino Caffè de Paris Doppia festa di auguri natalizi per la doppia squadra della famiglia Ital Service che in questo fine settimana ha riunito assieme per le festività le due compagini di casa quella della massima serie di calcio 5 e l'Oreto Basket di serie B Due squadre timonate da due presidenti coniugi Simona Marinelli che in estate ha ricevuto il testimone della presidenza di calcio 5 dal marito Lorenzo Pizza ora al vertice presidenziale del sodalizio di basket A noi ci piace dare tanto allo sport ma allo sport a 360 gradi noi lo viviamo sia da un punto di vista agonistico di prima squadra ma soprattutto da un punto di vista anche dei settori giovanili a noi piace questo a noi piace creare un gruppo di ragazzi, di giovani importante l'abbiamo creato nel calcio a 5 dopo tanti anni siamo arrivati ad avere quasi 300 bambini quindi 280-290 famiglie che comunque ci seguono che vengono a vedere le partite che fanno giocare i loro ragazzini nel calcio a 5 ma soprattutto anche abbiamo già 45 bambini che vengono a giocare a pallacanestra nell'Oreto Basket nell'Ital Service dell'Oreto Basket e quindi questo per noi è motivo di grosso orgoglio quindi ecco questo è vivere lo sport io penso da un punto di vista agonistico ma anche da un punto di vista umano è un onore, è un onere importante in quanto ho ricevuto il testimone da mio marito che per me poi resta sempre lui il presidente un po' di tutto è una bella emozione perché comunque è un bel gruppo nel calcio a 5 archiviato una stagione complicata l'Ital Service è ripartita quest'anno con un campionato che la vede attualmente al quarto posto una posizione che la riallinea ai fasti del passato quelli che conosce bene capitano Tony Dandel da oltre un decennio a Pesaro quest'anno già sta andando molto meglio siamo quarti in classifica e secondo me stiamo giocando bene stiamo facendo un campionato molto bello gli anni scorsi non ho manco parole solo di ricordare già mi viene il cuore, i batti più forti gli anni scorsi sono stati molto belli vincere tre scudetti, tre supercoppe, due Coppa Italia nessuna squadra ha vinto così tanto in poco tempo nelle storie del calcio a 5 per quello secondo me è una roba indimenticabile allora l'obiettivo qua del Pesaro è sempre vincere quello sì tutte le competizioni che entriamo sicuramente per vincere ancora credo che non stiamo molto in intesa siamo ancora, mancano tre partite per fine l'andata però le cose sono positive pochi errori, pochi sbagli purtroppo la partita di settimana scorsa abbiamo sbagliato, credo l'unica così ma se continuiamo così con questo lavoro bene ogni settimana allenando forte sicuramente cose buone verranno ambizioni e voglia di crescere e di stupire inserite anche nel DNA del Loreto Basket una società che sta crescendo che ha intenzioni serie per cui essere di Pesaro avere questa possibilità non posso che essere contento sicuramente una sfida se vogliamo anche difficile perché c'è tanta concorrenza il campionato non è dei più semplici anche la formula non ti aiuta quindi nonostante abbiamo costruito hanno perché la società io ho solo avvallato gli acquisti chiaramente dicendo anche chi prendere però abbiamo preso abbiamo una squadra che sicuramente è una delle sulla carta una delle migliori poi qualcosa ci è voluto per amalgamarsi perché tutti i ragazzi nuovi quindi abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto speriamo adesso di averne sempre meno perché credo che qualche miglioramento insomma lo stiamo facendo siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate con noi perché subito dopo questa prima edizione continuiamo a parlare di sport infatti intorno alle 20 troverete quello che è stato il reportage della cena di Natale della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro mentre in prima serata potete trovare la seconda puntata di questo format dedicato al cyberbullismo affrontare le minacce della rete capire prevenire e proteggere quindi vi aspettiamo alle 21 e 20 e poi alle 22 potete rivedere la partita di Fiorini Pesaro Rugby contro Rugby Paese mentre domani mattina la rassegna stampa vi aspetta puntuale alle 7 e 20 con il nostro Daniele Sacchi il telegiornale torna domani alle 19 e 30 grazie per averci seguito